Le soppopere estive che stanno andando in onda in questa estate 2022 su Canale 5 stanno appassionando tantissime telespettatori italiani, ma per un altro domani e terra amara ci sarà ragazzi un cambio di programmazione. In tanti lo stanno chiedendo e oggi vi svelo, vi svederemo grazie alle anticipazioni che ci giungono dal web che cosa accadrà a settembre a queste due amate sopp di Canale 5. Nel dettaglio ritorna ovviamente a settembre Maria Di Filippi nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.40 circa. Spazio dedicato anche al ritorno di Amici 22, il talent show proprio ideato e condotto dalla stessa conduttrice di Uomini e Donne. L'appuntamento con Amici è confermato di domenica pomeriggio con i consueti speciali e poi da lunedì al venerdì ci sarà nuovamente la striscia quotidiana che verrà trasmessa dalle 16.10 alle 16.40 circa, quando poi la linea passerà al daytime del grande fratello VIP. Di conseguenza tutti quanti si chiedono a che posto, a che orario sarà Terra Amara e un altro domani? Nelle ultime ore ragazzi ci giunge una spiacevole notizia perché l'unica fascia oraria che resta libera da settembre in poi nel daytime di Canale 5 è quella che va dalle 16.50 alle 17.25 prima che poi prende la linea Barbara D'Urso. Quindi soltanto una tra un altro domani e Terra Amara potrebbe sopravvivere all'interno della stagione autunnale 2022-2023. Quale sarà? Terra Amara o un altro domani? Lo scopriremo nei prossimi giorni perché vi terrò aggiornati anche su questo. Quindi iscrivetevi se ti vi va e lasciate il mio like di supporto. Grazie a tutti.